Assessore Vincenzo Zagaria, l'estate volge al termine ma le manifestazioni di Restate a Leporano, l'estate leporanese è in pieno fermento. Questa sera tante belle ragazze, un'occasione per stare insieme e chissà, magari anche per sognare, perché poi un'affermazione qui, questa sera, potrebbe spianare la strada per eventuali concorsi futuri, un futuro radioso insomma. Sì, Leporano nel periodo estivo esplode, i risultati parlano da soli poi. Tra tutte le iniziative espletate e quelle che si stanno ultimando c'è questa di Donna dei Due Mari. Una bella iniziativa dove viene messa in risalto la capacità e la bellezza della donna in tutti i settori. Quindi gustiamoci questa bella serata. Insomma, un'iniziativa che davvero ha catalizzato l'attenzione della gente. Manca ancora una mezz'oretta all'inizio della manifestazione, la piazza è gremita, la città è piena di macchine, quindi molta gente è venuta anche da fuori Leporano. Infatti la cosa che mi ha colpito quest'anno parecchio è stata proprio l'attrazione da parte dei turisti. Si è andati a livelli top, davvero.